Impresa solo sfiorata per il Cusunime del coach Sergio Naccari, che ha perso di misura in casa contro la Rari Nantes con il risultato di 8 a 9. Dopo la sosta e contro un'autentica corazzata come la compagine salernitana, infatti, la squadra mestinese ha giocato alla pari, sfiorando nel finale la rete del pareggio. Sulli scudi Sacco, autore di una tripletta, è Steardo, che ha messo a segno una doppietta. Una rete a testa per Parisi, Russo e per il solito Glicovac. Decisivo nelle fila dei campani, Luongo con quattro reti, seguito da Gandini con due, e da Pica, Parriglia e Kubic con un gol. Alla piscina della cittadella sportiva universitaria dell'Annunziata, i giallorossi hanno messo in acqua cuore, grinte e carattere, ma non sono bastati al cospetto di una tra le squadre più forti del torneo. Prossimo impegno per il Cusunime in casa dei napoletani dell'Acqua Chiara, prima dell'attesissimo derby contro il Palermo. Saranno 15 giorni decisivi e veritieri sulle ambizioni e sulle reali possibilità dei messinesi, che si stanno disimpegnando fin qui più che bene nel torneo di Serie A2.